Siamo abituati a sentirli chiamare foreign fighters. Sono giovani occidentali che per qualche ragione hanno deciso di abbandonare l'Occidente per unirsi alla causa dello Stato Islamico, pronto a sacrificarsi in nome del Jihad. Di questo si è parlato ieri sera ai Martiri del Mondo, il ciclo di conferenze organizzato dai missionari comboniani di Verona. Ospite della serata Giuseppe Acconcia, ricercatore di queste tematiche presso l'Università Cattolica e quella di Padova, giornalista professionista corrispondente dal Medio Oriente per Al Haram Weekly, The Independent e Il Manifesto. I profili dei giovani occidentali radicalizzati sono molto diversi gli uni dagli altri ed è difficile tracciare un profilo comune. La scoperta degli ultimi anni è che ci sono tanti convertiti, circa il 25% dei giovani radicali europei sono convertiti. Il 60% di questi giovani sono seconde generazioni, quindi vuol dire che hanno una tradizione di famiglia presente in Europa. Normalmente i convertiti sono più radicali degli altri, in particolare le donne. L'altra cosa è la rottura con i legami familiari, quindi spesso i giovani occidentali radicalizzati tagliano completamente i ponti con le loro famiglie e vanno per la loro strada verso una religione radicale. Poi c'è un altro elemento che è il disagio e quindi crisi della cittadinanza, crisi della rappresentanza democratica, crisi delle sinistre, perché molti di questi giovani potrebbero trovare sfogo in partiti di sinistra che però non raggiungono le periferie delle città. ISIS, lo stato islamico, è stato esagerato, fomentato tantissimo dai media mainstream. Subito si è parlato di stato islamico, in realtà un vero stato non c'è mai stato. Poi i terroristi, i gruppi terroristici hanno una grande capacità di utilizzare i social network, internet eccetera, in particolare attraverso Twitter, attraverso Facebook, diffondono la loro ideologia terroristica e diffondono per esempio immagini che sono ormai diventate note come quelle degli sgozzamenti eccetera che perpetravano in Libia piuttosto che in Siria e in Iraq. Quindi evidentemente i media fanno come la cassa di risonanza del messaggio jihadista. La cosa che sconvolge riguarda l'età dei giovani forest fighter? Gli attentati più gravi, quelli in Francia eccetera, si è avvenuto fuori che c'erano coppie di fratelli, quindi sono tutti di una pari generazione, tutti molto giovani e questo è un elemento per esempio che spiega perché in Italia non ci sono ancora stati attentati terroristici, mentre in Francia c'è una tradizione di migrazione di lunga data. In Italia sono ancora molto giovani, tanti nuovi migrati non hanno ancora raggiunto la maggior età e questo è un elemento che ha permesso che in Italia non ci fossero, non ci siano stati ancora attentati terroristici. Un altro elemento che spiega perché in Italia non ci sono attentati terroristici è che i paesi di provenienza dei migranti in Italia sono addirittura 63 diversi paesi, quindi vuol dire che è molto difficile per tutti le varie comunità entrare in contatto l'una con le altre. Questo rende molto difficile la comunicazione e questa cosa, secondo gli ultimi studi, ha permesso il fatto che in Italia sia più difficile organizzare, perpetrare, pensare, attentati terroristici.